Ciao, sono Alessandro Maestri e appoggio la candidatura di Marco Mazzieri alla Presidenza Federale e il perché è molto semplice. Marco è stato un grandissimo giocatore e un grandissimo allenatore ed è pronto ad essere un grandissimo presidente. È una persona seria che sa come ottenere quello che vuole e quando fa le cose le fa fatte bene, non le fa tanto per fare. Non so chi altro si candiderà onestamente, ma so che Marco è la scelta giusta. Quindi vota Marco Mazzieri alla Presidenza Federale.